Innovare una tradizione di 800 anni non è facile, ma i fabrianesi non hanno inventato la carta. I fabrianesi l'hanno innovata, hanno fatto questo. La carta era stata inventata dai cinesi tanti anni prima. I fabrianesi hanno avuto l'onore e l'onere, perché poi per la storia, di innovare un prodotto e di renderlo fluibile. Ha sostituito la pergamena. Ecco, io voglio riprendere questa filosofia, l'innovazione, che è il tema centrale di questa serata, la tecnologia, l'utilizzo delle tecnologie. E un altro punto di forza che mi guida è la qualità. In tutto quello che noi facciamo all'interno della nostra microazienda è puntare verso la qualità massima. Non esiste una via di mezzo, perché in mezzo siamo morti. Bassa qualità non è il nostro mercato di riferimento, dobbiamo puntare solo in alto, al vertice.